In diretta da Sarzana, buonasera per i spettatori, quindicesima giornata del campionato nazionale fase regolare 2021-2022 di Serie A2 incontro Sarzana-Giovinasso. Inizia la gara, Cannato che supera Pistelli, Cannato dalle parti! Ma l'arbitro annulla la rete di Mezzina, no la concede, la concede, in vantaggio a Giovinasso, non avevo capito, sembrava che l'arbitro l'avesse annullato, invece Mezzina, 3 contro 2, finta D'Agostino, azione a 3 e rete, e rete del Giovinasso sempre con Mezzina e c'è su di 0 di Pistelli, Cardella, rete, e ora è Cardella, che è a corsa, è venuta da mettere distante, per Sarzana si sblocca la formazione sarzanese del Colucci, che tenta di tassere le file di Sarzana, Cardella, rete, rete di Cardella, che pareggia a doppietta personale, finta la conclusione, fa la prova e fa la tripleta della gara, mentre i giocatori del Giovinasso vanno a protestare, ma è Berto Luzzi che vanno solo su del Giovinasso, Berto Luzzi, rete, gioco di Berto Luzzi, che trafigge imparabilmente per il Giovinasso, e questo è Sardana, che vogliamo vedere, Berto Luzzi, che svaria, poi insacca, con un tiro dei suoi angolatissimo, Pistelli di Matteo Capitano, a 49 secondi dal termine del tempo, 5-2, ancora Sarzana con Pistelli in avanti, poi c'è un fallo su Cinquini, e c'è un blu, due minuti accannato, che non se l'aspettava, e sulla pallina, D'Agostino, e c'è un rigore per Sarzana, rilevato prontamente dal direttore di gara, inflessibile, ancora Pistelli, para D'Angelico, la conclusione, per Amatulli, è la meglio per Roni, tutto regolare per Aldi, poi c'è un blu, c'è un blu ad Amatulli, contro D'Angelico, Berto Luzzi, rete, è la sesta di Sarzana, Berto Luzzi, dopo 2-0-9, poi Turturo, buona azione di Turturo, rigore, rigore meritato per Giovinasso e è giusto anche, perché Turturo c'era, la pallina è andata fuori, ci dispera D'Agostino, poi chiude un po' alla meno peggio Giovinasso, Camporeale, rete, bella azione di Cannato, questa volta l'applaudita l'azione a 3 di Giovinasso, D'Angelico, con il centrale, va, va, va ancora per Roni, rete, di Andrea Peroni, ha referto anche lui, a 4-11 dal termine, 72, 73, perdono, punizione a una manciata di secondi dal termine, almeno salvare l'onore, ma Mechini si oppone e vice di no ancora a Cannato.